Salve a tutti carissimi cinefile carissimi cinefile ben ritrovati in questo nuovo video. Allora oggi voglio parlarvi di un film che ho visto giusto appunto ieri ed è del 2015 ed è intitolato Suffragette realizzato dalla regista Sarah Gavron. Premetto che farò degli spoiler quindi se ancora non avete visto il film in questione vi invito a tornare in un secondo momento se non volete avere alcun tipo di anticipazione. È vero che il film tratta di un argomento storico quindi basta che andate a guardarvi un attimino, a informarvi sulla storia del movimento per la lotta all'ottenimento del diritto di voto delle donne, le famose Suffragette come dice lo stesso titolo del film conoscerete già insomma buona parte se non quasi tutto della storia che viene raccontata da questa opera quindi se volete ecco magari prima di vedere il film potete farvi una base storica per potervi orientare meglio nella visione di questa pellicola. Il film è ambientato tra il 1912 e il 1913 l'ultima data che noi vediamo è il 4 giugno del 1913 momento fondamentale nella storia del movimento per il diritto al voto delle donne l'ambientazione del film è Londra quindi siamo nell'Inghilterra di inizio novecento e la storia è vista con gli occhi di Maud Watts che è interpretata secondo me in modo molto convincente dall'attrice Carrie Milligan allora Maud Watts è una operaia che lavora in questa lavanderia le condizioni di lavoro sono molto difficili la salute viene minata da questo lavoro pesante dall'aria chiusa, dai vapori, dai prodotti chimici queste donne fanno dei lavori più pesanti rispetto agli uomini i loro turni durano di più e sono pagate di meno quindi già partiamo con questa descrizione e il film già ci fa capire che la storia sarà vista secondo la visione di un'operaia quindi una visione dal basso non sarà un film legato alle figure dei leader di questo movimento Emeline Pankhurst che è stata probabilmente la leader più importante del movimento delle suffragette viene vista per poco tempo spesso viene evocata nel corso della storia nel corso degli eventi la vediamo ad un certo punto quando lei fa un'uscita pubblica ringa la folla di donne ed è interpretata da Meryl Streep ed è un'apparizione estremamente significativa potente è una persona carismatica capace di scuotere ancora di più di accendere proprio il fervore di queste donne nello specifico del personaggio di Maud Watts ma appunto è una comparsa il film più che altro si concentra sulle militanti su quelle che hanno portato avanti la lotta proprio dal punto di vista anche fisico non solo con le idee ma ci hanno messo proprio la faccia ci hanno messo proprio le mani ci hanno messo proprio i loro corpi la loro azione e questo già secondo me è un elemento molto interessante anche perché il personaggio di Maud Watts che è un personaggio fittizio a differenza di altri come quello della Pankhurst o quella per esempio della Emily Davison Maud Watts è un personaggio che diciamo racchiude nella sua figura nella sua storia personale nelle sue vicende le storie di tante altre donne che si sono impegnate in questa fondamentale battaglia per la parità dei diritti sono persone che tutti i giorni avevano a che fare con la discriminazione con lo sfruttamento e che ad un certo punto hanno detto basta insomma si sono rese conto che non potevano rimanere indifferenti è interessante notare che il personaggio di Maud non è da subito una suffragetta è un'operaia che cerca di sopravvivere cerca di mettere da parte i soldi lavorando duramente per dare al figlio un'istruzione per cercare insomma di vivere un po' meglio non è una donna attiva nella politica è un personaggio abbastanza grigio solo che gli eventi le circostanze e il contatto poi con donne come per esempio Violet che sono impegnate attivamente in questa battaglia la scuotono dall'indifferenza la scuotono dal suo come posso dire immobilismo e la portano dentro al gruppo ma soprattutto la portano dentro a questa battaglia che coinvolgerà poi sempre più donne nel Regno Unito ma nel mondo perché il movimento delle suffragette è stato qualcosa di transnazionale quindi noi abbiamo la descrizione del contesto lavorativo del contesto sociale quali sono le contraddizioni dell'epoca quali sono le condizioni lavorative quali sono anche i rapporti sociali tra le donne e il mondo maschile si capisce chiaramente che questa è una società fallocentrica è una società maschilista patriarcale dove sostanzialmente gli uomini detengono il potere qualunque esso sia sia che si tratti del posto di lavoro sia che si tratti di un potere legale sia che si tratti della politica e i lavoratori sono in una condizione di sfruttamento le donne sono ancora più sfruttate quindi è interessante quando poi andiamo a vedere le vicende familiari della Watts come sia lei che il suo marito appartengono ad una classe sociale bassa economicamente debole ma all'interno di quello stesso contesto di gente sfruttata c'è un ulteriore livello di subalternità che è quello della Watts lei è subalterna nei confronti del marito che dal punto di vista economico è praticamente allo stesso livello della Watts cioè di Maud ma nei rapporti sociali e in questo caso familiari lei sta ancora di più sotto quindi veramente l'ingiustizia che si moltiplica e che viene perfettamente spiegata all'interno del film e ciò che inizialmente può apparire lontano per Maud poi diventerà qualcosa che ha a che fare con la sua quotidianità arriverà a provarlo proprio sulla sua pelle ed è il caso della custodia del figlio perché perché Maud ad un certo punto anche insomma un po' controvoglia si trova ad avere a che fare con le suffragette in un'occasione in cui le rappresentanti del movimento sono state invitate dal governo e all'epoca c'era Lloyd George come primo ministro del partito liberale queste donne sono state invitate per dare la loro testimonianza quindi per dire quali sono le loro condizioni di donne che non hanno la parità dei diritti non hanno diritto di voto non hanno voce capitolo in nulla se non soltanto per fare figli e quindi per soddisfare anche i maschi lei legge questa testimonianza doveva farlo Violet ma Violet arriva tutta tu mi hai fatto in volto probabilmente il marito che è una persona violenta l'ha aggredita e quindi Maud legge o meglio rende la propria testimonianza parla alla fine della sua esperienza personale quindi per la prima volta si mette in gioco e quindi in quel momento capiamo che lei entra magari non ancora del tutto consapevolmente ma entra a far parte del movimento delle suffragette succede che ci sono varie traversie alla fine Lloyd George comunica che in ogni caso il voto alle donne non sarà dato c'è questa riunione pubblica Lloyd George comunica che dopo che sono state esaminate tutte le varie questioni richieste testimonianze eccetera alla fine non verrà dato il diritto di voto c'è ovviamente una protesta la polizia violentemente aggredisce le manifestanti che vengono arrestate tra le arrestate c'è la stessa Maud e quella sarà la prima volta per lei in cui finisce in galera e qui vediamo come l'entrata all'interno di un penitenziario sia già di per sé qualcosa di traumatico vediamo in una scena molto significativa come i poveracci perché c'è una cauzione da pagare di due sterline che sono tante al tempo chi se lo può permettere la donna che comunque ha i soldi con l'arrivo del marito che spende e paga la cauzione e sono soldi però della donna cioè la proprietà economica è della donna ma l'utilizzo viene fatto dall'uomo quindi un momento che già solo questo significherebbe tantissimo ma non solo questa donna che era stata arrestata con loro comunque è libera lei vorrebbe liberare anche le altre ma il marito glielo impedisce paga la cauzione solo per la propria moglie e la libera la porta via ma la libera come se si trattasse di un capo di bestiame che vuole avere indietro perché gli è stato sequestrato dalle autorità le altre invece rimangono in carcere quindi anche all'interno dello stesso movimento comunque si vedono le differenze dovute al ceto sociale dovute alla proprietà dei mezzi economici chi è ricco comunque riesce ad uscire chi invece è povero rimane per una settimana mi sembra se è stata arrestata per la prima volta rimani una settimana in galera quindi Maud poi esce dalla prigione e cominciano però i problemi con il marito il marito inizialmente lascia che la moglie partecipi alle riunioni alle iniziative pubbliche eccetera ma nel momento in cui lei viene arrestata ecco che il marito comincia ad avere un atteggiamento decisamente ostile nei confronti della moglie che si è avvicinata alle soffragette ostile non tanto perché lui sia un maschilista convinto dell'inferiorità della donna la sua è la manifestazione di un conformismo maschilista cioè io ti considero in questo modo perché sono gli altri a considerarti così e le opinioni degli altri contano talmente tanto per me che poi diventano un po' anche le mie opinioni e io mi comporto di conseguenza e ti tratto di conseguenza quindi un personaggio molto ambiguo e comunque alla fin fine negativo su questo ci sono ci sono pochi dubbi però attraverso il personaggio di Watts del signor Watts vediamo come conti tanto anche il contesto nella formazione dell'opinione del singolo e alla fine quando ci saranno altre iniziative intraprese dalle suffragette e Maud è sempre più coinvolta viene nuovamente arrestata ad un certo punto il marito la ripudia la caccia di casa e qui vediamo un altro aspetto e arriviamo a quello che avevo detto prima un altro aspetto della legge che era fortemente invalidante nei confronti delle donne la questione della custodia dei figli all'inizio in una scena che abbiamo quando c'è l'uscita dalla lavanderia di queste donne tra l'altro una scena che mi ha ricordato un po' l'uscita dalle officine Lumière fateci caso secondo me è molto simile sentiamo una donna che sta arringando i passanti spiegando quali sono i problemi della legislazione della mancanza dei diritti per le donne uno di questi problemi uno dei problemi più gravi e dolorosi riguarda proprio la custodia dei figli la custodia dei figli era affidata agli uomini non alle donne assolutamente loro erano escluse da ciò ecco in quel frangente questa cosa viene semplicemente detta è un discorso che viene fatto anche un po' da lontano una voce lontana di questa donna che sta parlando in modo molto eloquente ma viene sentita quasi con distrazione Maud non le dà particolare attenzione nonostante lei sappia che sia questa donna nonostante questa donna periodicamente si presenti all'uscita proprio per cercare di svegliare la coscienza politica delle operaie ma Maud è sempre passata oltre e questo problema che la che la suffragetta sta denunciando per lei è una cosa lontana è una cosa che non le riguarda ecco che poi ad un certo punto questo problema diventerà reale per lei infatti quando lei viene cacciata dal marito di casa il figlio George rimane con lui rimane con il signor Watts non con lei lei è costretta a farsi aiutare dall'unione cioè dall'organizzazione delle suffragette perché molte donne era un problema sociale enorme molte donne a causa della loro militanza politica perdevano il lavoro e perdevano la casa venivano cacciate dai mariti venivano allontanate dalle loro famiglie e l'unione cercava ovviamente di aiutarle sistemandole come meglio potevano nelle pensioni o addirittura nelle chiese sconsacrate nei edifici tiroccati insomma una situazione pazzesca e quindi vediamo attraverso la storia di Maud proprio questo aspetto veramente tremendo orribile osceno che è appunto la perdita legale dei figli tant'è che poi siccome il signor Watts è da solo e non riesce a seguire il figlio in modo adeguato decide addirittura di farlo adottare ed è abbastanza staziante insomma la scena in cui la mamma Maud si accorge di questo di questo fatto addirittura questa cosa avviene proprio il giorno del compleanno del figlio George mentre la mamma gli porta un giocattolo il padre come regalo gli ha dato una nuova famiglia cioè una cosa una cosa allucinante e lì arriviamo proprio come dire all'estremo di questa situazione cioè la madre che oltre a non poter più stare con il figlio perché è cacciata di casa lo perde perché questo viene adottato da un'altra famiglia è una scena di una violenza pazzesca il film poi ci descrive anche quella che era la detenzione quindi il rapporto proprio con lo stato c'è la dimensione privata personale familiare ma c'è anche il rapporto con lo stato che si esplica essenzialmente attraverso la violenza questo è poco oddio è un po' tutto una questione di violenza in realtà quando si tratta di scontrarsi di confrontarsi con il mondo maschile c'è di mezzo la violenza perché comunque il potere di quel tipo di società maschilista si basa sull'esplicazione della forza bruta questo è e il confronto con lo stato è su questo piano c'è poco da fare il carcere è violenza il carcere è brutalizzazione dell'essere umano il carcere è qualcosa che assolutamente non porta a nessun tipo di educazione ma anzi è finalizzato alla distruzione dello spirito umano e questo noi lo vediamo quando si tratta per esempio della semplice questione del vestiario queste donne vengono perquisite spogliate in modo veramente violento vengono umiliate non viene riconosciuto il loro status di detenute politiche perché loro non sono lì perché hanno commesso un omicidio o qualcos'altro no loro sono delle detenute politiche incarcerate per le loro idee e per la loro lotta per i diritti e quando decidono di fare lo sciopero della fame perché chiaramente ci sono varie forme di lotta c'è far saltare in aria per esempio le cassette postali attaccare il telegrafo quindi danneggiare i mezzi di comunicazione colpire la casa o comunque una delle residenze del primo ministro quando questa è disabitata rompere delle vetrine fare insomma delle azioni dimostrative eclatanti infrangere una legge che viene giustamente c'è da dirlo ritenuta ingiusta fare degli assembramenti illegali radunarsi fare volantinaggio eccetera queste donne sono appunto incarcerate fanno lo sciopero della fame e quindi anche esso è uno strumento di lotta politica molto forte molto significativa che comporta un rischio pazzesco per l'establishment cioè la possibilità che una di queste donne nel corso dello sciopero della fame muoia se muore ecco che il movimento ha una martire ed è qualcosa che non può essere ignorato perché il governo e la polizia controllano la stampa anche questo è un aspetto che viene esplicitato nel film fin tanto che il movimento viene represso e silenziato la lotta può ancora essere controllata può ancora fallire ma nel momento in cui succede qualcosa di troppo grosso ed ecco perché le azioni delle soffragette diventano ancora più eclatanti loro non sono delle pazze scatenate loro hanno una strategia hanno una strategia che è dettata anche dalla necessità di far sentire la loro voce e se tu vuoi far sentire la tua voce inizi parlando diciamo ad un tono normale poi mano a mano che vedi che non ti ascoltano tu aumenti aumenti fino a quando non gridi non urli la tua indignazione e quando ci sono delle manifestazioni così eclatanti significa che il movimento in quel momento sta urlando sta gridando la loro voglia di uguaglianza la loro voglia di giustizia e lo sciopero della fame è probabilmente il punto più più estremo se vogliamo e nel momento in cui c'è una martire ecco che ci sarebbe una situazione un evento che non può essere ignorato e allora cosa succede? succede che abbiamo la situazione dell'alimentazione forzata e la scena che ci mostra come Maud sia in sciopero della fame sia sempre più debilitata ma determinatissima a portare fino in fondo il suo gesto ecco che le autorità carcerarie il rompono nella sua scella la legano a questa sedia e la costringono a subire l'alimentazione forzata che è una cosa tremenda tremenda e sono convinto che per fare questa scena che è di un realismo pazzesco ma tutto il film è realizzato con un grande senso del realismo questa scena è stata fatta partendo dalle fotografie che ci sono e che potete trovare di queste donne che sono costrette sono legate in cella su queste sedie e con i tubi che vengono infilati a forza nel naso per poter far passare latte o comunque nutrienti per impedire che il loro sciopero della fame possa portare appunto a quello che loro vogliono quindi per far interrompere questo loro sciopero questa loro azione di lotta sono scene veramente pazzesche che ci fanno vedere appunto come il livello di violenza sia altissimo e inaccettabile chiaramente perché lo spettatore non può fare altro che empatizzare con queste donne coraggiose e però nella lotta che queste portano avanti non basta anche questo tipo di azione si deve arrivare direttamente all'autorità massima che è il re Giorgio V è vero che siamo in una monarchia costituzionale quindi i poteri del re sono limitati ma quello che conta è il gesto quello che conta è fare un'azione dimostrativa e il re comunque rimane un'istituzione la più alta istituzione dello stato britannico e quindi bisogna portare la protesta davanti ai suoi occhi bisogna che tutti vedano dove c'è il re ci sono gli occhi del mondo e qui si arriva al 4 giugno del 1913 si arriva all'idea di portare la protesta proprio in occasione di un derby ippico a cui partecipa il re e in questa occasione Maud Watts e Emily Davison si recano all'ippodromo di Epson per poter appunto fare questa azione dimostrativa in presenza del re avviene in questo caso la tragedia è uno degli episodi più famosi del novecento e senza dubbio il più famoso della storia del movimento delle suffragette noi vediamo Emily Davison che a un certo punto esce dalla folla che sta assiepata intorno alla pista cerca di fermare il cavallo del re o comunque di attaccare al cavallo del re il drappo la bandiera del movimento delle suffragette e succede però che il cavallo la travolge e lei poi muore purtroppo per le lesioni quattro giorni dopo lei sicuramente è una martire non è una persona che ha voluto sacrificarsi per il movimento non si è trattato di un suicidio fanatico si è trattato effettivamente di un incidente lei comunque sapeva di correre dei rischi tant'è che prima di fare questo gesto il personaggio della Davison si gira verso Maud e le dice mi raccomando non non mollare mai non smettere mai di lottare e si butta in mezzo a cavalli la stampa che denigrava le suffragette ha voluto descrivere questo episodio ha voluto presentare questa morte come un atto deliberato fanatico ma in realtà non è non è andata così ma soprattutto questo atto è avvenuto sotto gli occhi del re e sotto le cineprese sotto gli occhi della stampa si è trattato di un episodio quindi talmente eclatante che non poteva più essere ignorato la lotta delle donne è impossibile da quel momento in poi da ignorare quindi la forza anche delle immagini se vogliamo perché poi le immagini della morte della Davison sono sconvolgenti e sicuramente hanno colpito l'immaginario collettivo e dopo questo tragico episodio il film si conclude con i funerali di Emily Davison e qui irrompe la realtà storica è una cosa che mi è piaciuta molto perché in questo modo si riesce a dare una grande forza una grande credibilità a tutto quello che è stato mostrato sino a quel momento nella fiction ad un certo punto finisce il tempo della fiction e abbiamo lo stacco e l'entrata in scena proprio della storia perché noi abbiamo i filmati reali del funerale della Davison a cui hanno partecipato migliaia di persone sono stati i suoi funerali un evento pubblico di enorme importanza di grande rilievo e diciamo che può essere considerato come il momento in cui c'è stata la spinta definitiva per l'opinione pubblica sulla questione del diritto alle donne dopo qualche anno nel 1918 si arriverà ad un'apertura legale per quanto riguarda la concessione del diritto di voto alle donne nel 1918 dai 30 anni in su le donne potevano votare e poi dal 1928 il suffragio venne esteso a tutte quante quindi a tutti gli effetti il suffragio divenne universale nel Regno Unito nel 1928 poi è anche interessante vedere che alla fine del film noi abbiamo altri paesi con le date dove ci viene mostrato quando il diritto di voto alle donne non è stato introdotto ed è quindi divenuto il suffragio è divenuto effettivamente universale piccola precisazione secondo me andrebbe fatta per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America che viene indicata la data come il 1920 quando le donne hanno potuto votare il problema però è un po' più ampio perché le donne afroamericane ad esempio non avevano in realtà lo stesso diritto che avevano le donne bianche tant'è che poi è stato necessario negli Stati Uniti licenziare il Voting Rights Act nel 1965 per poter garantire a tutti gli afroamericani il diritto di voto senza alcun tipo di discriminazione e tra gli afroamericani c'erano ovviamente le donne nere le donne di colore che erano cittadini statunitensi quindi la questione negli Stati Uniti in realtà non si è risolta nel 1920 ma c'è stato bisogno di molti più anni fino al 1965 addirittura per poter affermare e garantire il diritto di voto veramente a tutti quindi il film si chiude qui però un altro aspetto che secondo me merita di essere considerato ha a che fare con la discriminazione sul posto di lavoro questo diciamo è il terzo punto che si lega anche ad un altro al quarto problema che viene esposto dal film perché sul luogo di lavoro noi abbiamo le donne che fanno le operaie il posto di comando viene detenuto da un uomo dal signor Taylor il quale è un despota sugli operai e sulle operaie in particolare non solo perché fa valere la sua posizione di comando sul luogo del lavoro quindi la forza diciamo brutale del capitalista sulla manovalanza ma c'è anche una questione proprio sessuale proprio di possesso fisico delle sottoposte e questo noi lo vediamo in modo esplicito sulla figura di Maggie che è la figlia maggiore di Violet la soffragetta che inizia Maud al movimento e in modo implicito su Maud stessa perché Maud noi lo capiamo da vari passaggi da dialoghi da sguardi da situazioni è stata lei stessa purtroppo una preda sessuale del signor Taylor e lei purtroppo ha accettato questa situazione scandalosa questa violenza perché voleva lavorare è una ragazza povera che per non morire di fame ha accettato anche le attenzioni particolari diciamo così del suo padrone e nel momento in cui questa violenza viene replicata su una ragazza giovane come Maggie ecco che questo schifo si ripercuote anche su altre generazioni e Maud che ha maturato ad un certo punto una coscienza politica e si è resa conto dell'ingiustizia e una volta che ti rendi conto di questo non puoi più stare in silenzio ecco che prende le difese di Maggie arriva anche a saldare un po' i conti per se stessa con il signor Taylor bruciandogli una mano e dopo che c'è stato il tragico episodio della morte della Davison la prima cosa che fa quando Maud torna da Epson è quella di recarsi subito in fabbrica lei nel frattempo è stata licenziata perché ovviamente la sua militanza politica è inaccettabile e va a prendere Maggie capisce che quello schifo deve finire e porta Maggie da un'amica che anche lei è una soffragetta se non ricordo male è la stessa militante che era riuscita a pagarsi la cauzione e quindi la fa assumere come governante sicuramente meglio meglio stare lì piuttosto che continuare a lavorare in quel posto orribile e fatto anche di gente orribile quindi c'è anche la questione della predazione sessuale che più che mai viene come dire incoraggiata in contesti come questo e un altro punto forse l'ultimo che il film mette in evidenza è la questione della prole e qui andiamo sul personaggio di Violet lei è un'attivista molto attiva un personaggio che grazie al suo fervore ha saputo portare Maud nella lotta a farla partecipare alla lotta delle sue progette ma nel momento in cui lei discute con le altre militanti tra cui Edith Elin che è interpretata da Elena Bonham Carter lì si discute la possibilità di fare un'azione dimostrativa di grande impatto fare un attentato dinamitardo ad una residenza del primo ministro Lloyd George che tra l'altro nel film inizialmente non viene chiamato proprio Lloyd George ma viene chiamato Asquit quindi quando sentirete dire Asquit è in realtà Lloyd George perché il suo vero nome era comunque Asquit comunque dicevo quando c'è da discutere quest'azione eclatante e pericolosa ecco che Violet si tira indietro inizialmente sembra che lei abbia paura ma in realtà lei è di nuovo incinta e non si sa quanto questa gravidanza sia stata in realtà voluta perché lei ha già altri figli è in una condizione economica piuttosto difficile perché sono tutte di estrazione sociale bassa non so se il figlio è del suo marito di quello violento che la picchia eccetera insomma quella scena ci fa capire l'importanza della pillola l'emancipazione della donna passa sicuramente attraverso la parità dei diritti politici ma passa anche attraverso il pieno controllo del proprio corpo è proprio una cosa che è accennata in realtà nel film attraverso la vicenda di Violet ma è il cuore di una questione che poi emergerà in modo prepotente anche molti anni dopo i primi anni del novecento gli anni settanta insomma in Italia la questione dell'aborto la questione della pillola facevano parte dell'agenda politica di tutti i giorni e con quella scena noi capiamo che purtroppo la gravidanza in quel contesto può essere anche estremamente limitante cioè può essere qualcosa che pone comunque la donna in una condizione di invalidità nei confronti dell'uomo probabilmente se ci fosse stata la pillola già al tempo Violet non avrebbe voluto avere ancora un altro figlio barra figlia perciò è un è un dettaglio che nel film viene un attimo accennato ma anche questo è estremamente significativo quindi il film riesce a rappresentare in modo molto ampio e in modo piuttosto stratificato quelle che sono tutte le problematiche dell'universo femminile ovviamente non sono tutte soffragette le donne che noi vediamo nel film vediamo anche le donne che invece sono purtroppo assorbite dal sistema maschilista sono donne che sono delle benpensanti sono delle conformiste sono delle bigotte sono addirittura più maschiliste degli stessi maschi e ovviamente non tutti i maschi che noi vediamo all'interno del film sono contro le donne anzi ci sono dei personaggi come il marito di Edith Ellen che ha una parte attiva per la concessione del diritto alle donne quindi c'è una rappresentazione il più possibile ampia il più possibile completa ed è un film che secondo me dal punto di vista della recitazione tiene benissimo il montaggio scorre bene la colonna sonora sì forse il commento musicale può apparire un po' un po' di didascalico però è allo stesso tempo efficace riesce ad essere puntuale soprattutto nella sequenza in cui abbiamo la la punkhurst cioè Meryl Streep che finalmente si mostra e arringa la folla ecco lì abbiamo secondo me il momento migliore del commento musicale perché abbiamo queste percussioni questo ritmo che ci dà proprio l'idea di un grande cuore collettivo che batte che batte sempre di più acquista forza con le parole incendiarie proprio della punkhurst perciò la colonna musicale riesce ad essere efficace forse ecco ci sono delle scelte registiche che non mi hanno convinto del tutto l'utilizzo della macchina da presa piuttosto mobile con una macchina a mano che appunto spesso si muove e non ci dà la fissità del quadro in certe situazioni è giusta è una scelta giusta come per esempio in occasione del primo diciamo incontro fra mode e le soffragette è una situazione di grande confusione il punto di vista è quello di mode quindi chiaramente ci deve essere data questa sensazione di smarrimento di disorientamento con la macchina da presa che si muove tanto e che non ci dà dei punti visivi di riferimento in quei casi penso che la scelta sia stata giusta in altre situazioni invece io ho trovato che questa macchina piuttosto mobile sia eccessiva sia più che altro la necessità di dare un tono autoriale ad un film che invece non ne aveva non ne aveva bisogno ma questo magari è più che altro gusto mio però credo che effettivamente queste scelte in certe situazioni siano oculate siano pertinenti in altre situazioni invece no è un eccesso è un eccesso che poteva essere tranquillamente evitato però penso che il film comunque sia ben confezionato io ho adorato ho adorato la descrizione del contesto storico scenografie costumi veramente eccezionali perfetti anche la scrittura secondo me è giusta nella descrizione dei personaggi nella loro caratterizzazione nei dialoghi anche soprattutto quando ci sono i confronti con il personaggio di Steed che è interpretato da Brendan Gleason che è il poliziotto che insomma cerca in tutti i modi di impedire che le suffragette vincano ecco abbiamo dei momenti in cui i dialoghi sono sversanti dove le battute anche sono estremamente efficaci e ci fanno capire quanto la distanza proprio fra questi due mondi questi due modi di pensare sia enorme e anche ad un certo punto incolmabile vuoi per la mentalità o vuoi anche semplicemente per il ruolo che in quel momento si sta ricoprendo Steed non è un misogeno a priori lo è diciamo per il suo ruolo al contrario invece magari di altri che invece sostengono che effettivamente le donne siano intellettualmente inferiori emotivamente instabili e quindi non gli si possa assolutamente dare il comando di nulla la gestione di nulla eccetera eccetera e dall'altro invece abbiamo mode che diventa sempre più determinata sempre più decisa a non fare un passo indietro di fronte alla violenza del sistema perciò il film io ve lo consiglio tantissimo mi è piaciuto molto credo che parli di un tema che ancora oggi è di attualità perché ci sono ancora zone nel mondo paesi nel mondo in cui la parità dei diritti non è assolutamente rispettata e infatti alla fine 2015 Arabia Saudita viene promesso che le donne avranno il diritto di voto potranno votare quindi è una questione che ancora oggi nonostante ci troviamo nel 2021 non è stata risolta purtroppo un film che ci mostra come attraverso la lotta attraverso la lotta sia possibile far avanzare l'umanità sia possibile farla evolvere progredire sicuramente queste persone vivono in un contesto di progresso tecnologico che però non si è esplicato anche in un progresso sociale e il film ci spiega esattamente questo se vogliamo che ci sia un progresso per tutti non dobbiamo aspettarlo dalle macchine non dobbiamo aspettarlo dalla razionalità puramente applicata all'economia ma dobbiamo far progredire il tutto attraverso le lotte per la libertà le lotte per la democrazia le lotte per la parità dei diritti tutto quello che noi abbiamo oggi lo abbiamo grazie ai nostri predecessori alle militanti alle combattenti che in passato hanno dato tutto tutto hanno dato anche la loro vita per poter ottenere questi miglioramenti di cui oggi noi godiamo quindi un film che ci fa capire che ciò che noi abbiamo non è assolutamente scontato non deve essere dato per scontato e ogni volta che andiamo a votare ogni volta che ci esprimeremo in pubblico ogni volta che noi decideremo di esprimere una posizione politica anche forte significa che qualcuno in passato ha lottato per darci questa possibilità questa libertà e quindi dovremo sempre fare tutto ciò tutto il nostro agire politico dovrebbe essere sempre fatto nel nome del ricordo nel nome del rispetto assoluto infinito nei confronti di queste persone che hanno dato veramente tutto quindi un film che assolutamente vi consiglio tantissimo qui si conclude la mia disamina vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto commentate condividete e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti